Qui si sta realizzando una bretella per ovviare i problemi del raccordo siciliano-potenza. Praticamente il traffico in direzione di Ucino uscirà qui al vicolo di Pietri Balvano in contrada Cugni, salirà per questa curva della XSP 94 ed entrerà in questo accesso dove si sta realizzando una strada, una bretella di circa 700 metri che porterà poi subito dopo il vierotto marmo direttamente su un raccordo. Per chi proviene invece da Salerno e da Bucino insomma ed è diretto verso Potenza, continuerà su questa bretella, uscirà qui e rientrerà sul raccordo allo svincolo che vedete qui sotto dietri Balvano in contrada Cugni. I lavori sono in corso.